Non sarebbero dovuti scendere nella cisterna i cinque operai morti ieri a Casteldaccia mentre eseguivano lavori di manutenzione della rete fognaria affidati da AMAP, la municipalizzata del comune di Palermo, mediante appalto esterno. I lavori affidati alla Quadrifoglio Group, dopo una serie di segnalazioni per delle anomalie proprio sulla rete fognaria, prevedevano la messa in quota dei pozzetti e la disostruzione della strada tramite un autospurgo. Questo potrebbe spiegare perché nessuno degli operai indossasse i dispositivi di sicurezza ma resta da capire che cosa abbia spinto la squadra a scendere. In cinque sono rimasti uccisi dalle esalazioni di idrogeno sulforato mentre un sesto è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Palermo. Il comune di Casteldaccia è ancora sotto shock. Ho appena arrivato e ho semplicemente visto questo ragazzo, uno con la barba, erano in due in particolare, c'era uno però che era un po' più agitato, che correva verso gli altri colleghi probabilmente per chiedere aiuto e appunto gridava, piangeva, si vedeva che era un po' sconvolto in volto, piangeva, gridava, chiedeva aiuto, diceva sono tutti morti, sono tutti morti. La procura di Termini Merese ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo mentre si riaccende il dibattito in realtà mai spento sulla sicurezza sul lavoro. Quello che succede in Italia con le morti bianche di tutti questi operai che muoiono è sicuramente un allarme sociale che va attenzionato moltissimo e dalla politica e dai controlli che probabilmente molto spesso non si fanno. Il prefetto di Palermo convocherà nei prossimi giorni la conferenza permanente su salute e sicurezza con tutti i soggetti coinvolti, compresi IMSS e INAI, ad annunciarlo sono i segretari generali di CGL Cislewil al termine del sitting di protesta che si è tenuto oggi davanti alla prefettura palermitana.